bella ragazzi aspettatevi delle novità da dopo pasquetta dal vostro sante inciana perché ne dovete ancora vedere delle belle perché ne verranno delle belle perché ancora non avete visto tutto perché ci saranno delle belle novità delle novità che vi interesseranno a tutte e tutti voi cose mai viste prima mai viste nel canale di youtube santenchan mi raccomando dal vostro santenchan stay on stay with me stay together ne vedrete ne vedrete delle belle hai viste prima mi raccomando occhio state allerta dopo pasquetta dopo lunedì nuove produzioni mirabolanti incredibili fantasmagoriche mi raccomando ci saranno delle novità inerite stupefacenti non si Grazie.